Oltre al fornitissimo e prezioso indice alfabetico, sempre aggiornato, a cui si accede attraverso il sito web www.tinelli.eu, informo che è sempre in pronta consegna, in bianco e nero, il libro Il Risveglio, che ripercorre le scoperte fatte di questo falso mondo, di questo falso indottrinamento. Sulla piattaforma Telegram collaboro con l'interessante Canal 104 Plus. Anche il semplice valore di una buona tazza di caffè è sempre gradita. Un abbraccio. Grazie Astro Nonauti. Nonostante i clip dei film che seguono usino le grafiche e software più avanzate, fate attenzione che usano immagini software in bianco e nero in 3D per il rendering finale del prodotto generato col computer. Vi siete fatti un'idea? Quello che segue è il video originale NASA di una presunta compilazione in timelapse dell'installazione dello spettrometro magnetico sulla ISS durante la missione dello Space Shuttle del maggio 2011. Questo è il video originale pubblicato il 19 maggio 2013. La NASA per errore ha inserito un breve segmento del processo del modello in CGI. Per i liberi ricercatori e le libere ricercatrici segua il video originale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Cari. E? Grazie a tutti. Grazie.